Cari fratelli e sorelle in Cristo, ascoltiamo le parole di Santa Francesca Romana, un faro di luce nella notte oscura del peccato. Questa santa mistica, vissuta nel XIV secolo, è stata una testimone scelta dal Signore per rivelare i misteri nascosti alla fine della nostra esistenza e ha visitato il Purgatorio, quel regno delle anime penitenti, riportando fedelmente ciò che ha visto e descrivendo il luogo dove si scontano le pene dei peccati mortali. Ascoltiamo le parole che descrivono la visione che il Signore ha concesso a questa santa donna. Ho visto l'inferno e i suoi terribili tormenti, ma ho visto anche il Purgatorio e l'Ordine misterioso come una gerarchia di espiazioni con i quali le anime si purificano. La visione dell'inferno mi ha portato orrore indescrivibile e, quando sono uscita dalla visione di quell'abisso, sono stata condotta da una guida celeste fino alle regioni del Purgatorio. Lì non regnava l'orrore o il disordine, neanche la disperazione eterna. Vi era la speranza della luce divina, la luce della purificazione, tanto che quel luogo era chiamato il luogo della speranza. Vidi l'abisso infernale e i suoi orrori, ma vidi anche il Purgatorio, luogo di espiazione e di speranza. Questo luogo è diviso in due grandi regioni, la regione superiore e quella di mezzo. Nella regione superiore le anime soffrono la pena del danno, anelando alla visione di Dio che ancora non possono vedere. Questa pena è una nostalgia infinita, un desiderio ardentemente inespresso per la sua beatificante visione. Poi il mio sguardo si spostò al Purgatorio di Mezzo, suddiviso in tre zone. La prima zona era come una palude di acqua gelida, la seconda come uno stagno di pece con olio bollente, e la terza come uno stagno di schiuma simile a argento e oro liquefatto. Trentasei angeli, designati da Dio, immergono le anime in questi stagni con grande coscienziosità, ma anche con rispetto e compassione, mostrando un amore immenso per queste anime sofferenti. Infine, la mia visione si concentrò sulla terza regione, quella più bassa, confinante con l'inferno. Qui, un fuoco che penetra le ossa e le midolla arde senza sosta, diverso dal fuoco infernale solo nella sua natura purificatrice e santa. Anche in questo luogo esistono tre diverse zone. Nella prima, meno dolorosa, si trovano i laici, che soffrono per gravi colpe non espiate. La seconda è abitata dai chierici, non ancora ordinati sacerdoti, dalle religiose e dai fratelli laici. La terza, la più dolorosa, è riservata ai sacerdoti e ai vescovi, che per la loro maggiore dignità e conoscenza, patiscono le pene maggiori. Ma, anche in mezzo a questa visione di sofferenza, vi è una luce di speranza. Dio ascolta con amore le preghiere e accetta le opere di penitenza offerte dai fedeli per le anime del purgatorio. Queste preghiere e opere buone vanno a beneficio immediato delle anime per le quali sono state offerte, ma anche di tutte le altre anime in pena, grazie alla loro comunione. Se l'anima per cui si prega è già nella gloria, il merito delle preghiere e delle opere buone viene trasferito a favore delle altre anime ancora in pena. Con questa rivelazione vi esorto a pregare con fervore e ad agire con carità per aiutare queste anime nel loro cammino verso la luce eterna di Dio. Questa visione, benché non sia oggetto di fede, ma un'illustrazione delle dottrine della Chiesa, offre un dettagliato panorama delle sofferenze delle anime purganti e della loro graduale purificazione. Santa Francesca Romana ha rivelato, inoltre, che la sofferenza da espiare per ogni peccato mortale è di sette anni, anche se la pena per ogni peccato mortale varia a seconda della gravità. Cari fratelli e sorelle, le visioni di Santa Francesca non sono una verità di fede. Non siamo obbligati a credere con tutto il nostro cuore a queste sue parole. Però possono essere uno stimolo per ognuno di noi, un modo per ricordarci che la nostra vita terrena è solo un passaggio per raggiungere il regno dei cieli. Le parole di Santa Francesca servono come promemoria per non dimenticare nella preghiera i nostri cari che hanno già abbandonato questo mondo. preghiamo per le loro anime e preghiamo per il nostro percorso spirituale. Che il Signore, con la sua immensa misericordia, possa illuminarci nel nostro cammino e accogliere i nostri cari defunti. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi i nuovi video e entrare a far parte della comunità di fede e preghiera. Che Dio vi benedica.